Signori e signori siamo qua perchè oggi hanno appena giunto su StumbleGuys una nuova skin speciale Che schifo! Yeah 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 Ed è viola ragazzi il mio colore e la mia skin Si ma soprattutto è una femmina Sicuramente per festa No scusatemi ragazzi cosa vuol dire chi se ne prega se è una femmina o una skin di StumbleGuys Si hai ragione vabbè comunque ragazzi oggi saremo Nabi contro Pro Ovvero io e il mitico best busta contro il mitico Pou e il mitico Refiz per riuscire a guadagnarci La nuova skin che si chiama Ametista Ma lo sai che vinceremo noi cioè è troppo facile Questa cosa aspetta un attimo a dirla perchè guarda che Brucotalpa qua se si incavola è molto molto forte Ragazzi è il 4 novembre il giorno dei contrari quindi siamo in realtà io e Ferri proibbo i noob se non sbaglio Bravo 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 comunque vi siete qualificati almeno È ovvio siamo un po' forti Refri Questo fa delle domande veramente da stupido Aspettate perchè non vedo best Perchè sono qualificato Aspetta dimmi che non stai scrivendo Ma no fermi io sono spettatore Ma ho perso Ma guarda stai stinabile Ma mi ero qualificato ragazzi Vaga assurdo Ma andiamo a berci un caffè per favore Esatto Ma in quale pub intendi cioè quello vicino a noi o quello Quello più vicino Quello più lontano Vabbè Brucot non ha saputo dire né quello più vicino né lontano Stai ancora in gioco tranquillo best potresti farcela Oh raga comunque vi giuro voglio la nuova skin ametista che fa rima con Lucrezia è bellissima Perché è un pozzo rima è vero Ametista Lucrezia vabbè sentite andate a qualificarvi e muovere best Mi sa che non mi qualifico Ma best busta sei un nabbo Eh raga però non mi sono qualificato nemmeno io eh Vabbè ha vinto Pou allora ok Allora signori e signori io toglierei la partita di prima perché sei baggata Ma che cacchio stai di ma basta Aspetta quali partita perché non me la ricordo Ma quale partita scusate Ma questi qua stanno facendo i fenomeni Ma guarda sti baroni brutti schifosi Vabbè sentite indipendentemente dal fatto di barare oppure no Comunque voi nei commenti iniziate a scrivere secondo voi se vinceranno I nabbi oppure i pro Se lo chiedono pure sono proprio andati Volevo dire i pro oppure i nabbi Sì Beh rimaniamo sempre pro e voi rimanete sempre nabbi Questo è vero ma lo dimostreremo a fine round Ma comunque ferro com'è che faremo a vincere la skin ametista se dovessimo vincere queste challenge Perché non mica me la puoi regalare Sì allora la nuova skin speciale come andremmo a darvela Vabbè senti ti farei scioppare 50 euro finché non la trovi Sì ma con i tuoi soldi tu dà 50 euro Beh questo lo vedremo a fine Sì Io sono qua a fare i chi cosa allora no Scusami No 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 con i miei soldi va bene Sì 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 con i miei soldi tranquillo Space Race ragazzi teoricamente leggende narrano che qua i pro non hanno mai vinto volevo dire sì sì Mi stavo un po' confondendo Non hanno mai Non hanno mai Non hanno mai Non hanno mai Eh no scusami i pro ho appena detto Cioè raga allora scusate un secondo Ma best e ferro è una squadrone del cacchio Perché uno è veramente nabbo 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 E l'altro lo sarei anche prendermi con i calci Quindi che cacchio volete fare Ma senti ma tu cosa vuoi piuttosto Stavo dicendo comunque Tralasciando Pro pure nabbi Ma che ti sto calcio Eh non mi sono mancare con i calci Anche i Gli scarafaggi Anche i cosa? Gli scarafaggi Io ho capito Gli scarafaggi Vabbè noi siamo una band Capito Importante Siamo forti cacchio Sì tralasciamo questa cosa Che non l'ha capita nessuno Signor best Però Allora stavo dicendo ragazzi Siamo nello spazio Teoricamente la nuova skin speciale Metista Dicono che sia un pianeta Ma che è un pianeta? 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 Dicono che provenga da un pianeta Che non è la terra Che è che lo dice? Potrei dirlo io Però questi non sono Delle cose Ma a me sembrava una cagata Vabbè senti Signor best È incerto Vai qualificati Veloce Best siamo arrivati Primi io e te Un punto solo per noi Ti reni sì fratello Cioè io solo per questo Ci aggiungerei un punto eh Ma in realtà sì Non è che dovete aggiungere O togliere punti Io sto solamente Tranquillissimo E chillando Perché chi se ne frega Io stavo andando giù A buttare la nutella Per quanto non mi serva Che siete scarsi Ok fatto sta ragazzi Quello mini forse Non ci è qualificato Non lo so neanche io raga Fermi tutti Aspetta che rido Sì Let's go E adesso carissimo power La sfida si fa più interessante Refè stai tranquillo Che tanto questi qui Sono nabbi Cioè ma li mangio Ho capito che l'ho fatto apposta Aspetta Vabbè è ovvio Best Vagli contro Devi tirare i calci Pugni di tutto Io penso solo a salvarmi Come mi lo cade prima Vabbè giù martellate fratello Vai Distruggilo No best Tu però mi fai paura Ecco non cadere L'importante è quello Figurati se io casco C'ho solamente gli incredibili Tra i armoni Vai Sì Mannaggia te che ti stavo Non è caduto 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 Adesso gli tiro io un pugno Alla fine siete tutti sopra Tranne Che cacchio si succede No siamo tutti Sì Ragazzi sono io Sto bello che tranquillo qui Sto tranquillo Ragazzi best mi stava tirando un pugno Ah io sono caduto Ferro in me Oh Bruco talpa No 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 Ops bruco talpa E guarda qua Vieni qui piccolo best No 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 Va fermo Ragazzi ve lo dico Questa finale avrà un Veramente Un morto Che è successo Ma che cacchio Ragazzi sono crashato Ragazzi ho laggato Sono crashato È morto Sì sono crashato Let's go Signor best Ragazzi non ho perso Sono crashato Sì sì sicuramente Signor best Si squalifichi Che almeno ci daranno la vittoria E anche i nabbi Hanno la loro rivincita Wow Ok Abbiamo vinto E direi che siamo uno pari Signore e signori È il momento di una Delle ultime finali Perché qualora dovessero vincere Però ne faremo ancora un pezzettino Comunque ragazzi Nuova partita Nuova sfida Perché adesso Non solo dovremo fare Una mega sfida Tra nabbi e pro Ma dovremo anche aggiungere Una piccola cosa Ovvero Il fatto che non dobbiamo Toccare il colore verde Ok Quindi dai prossimi round Attenzione Veramente tanto Ma ferro sai una cosa Sì È il momento di farsi una tisana Zio Perché scusami Perché così ti sana la testa Ti sana No No Ti sana No Via Allora io voglio fare anche con voi Una sfida Iscrivetevi se ti fate Per i nabbi E lasciate un bel like E un commento Se ti fate per i pro Perché c'è stata quella sfumatura Quando ho detto nabbi Non lo so Solamente perché vi dovete iscrivere Ragazzi ma la vera domanda È chi è che ha capito la battuta Io no Tisana Perché ti sa Vabbè lasciamo stare Raga non c'è il colore verde E cosa facciamo Allora facciamo che non tocchiamo il colore giallo Ok quindi Ma perché c'è il giallo Scusa Possiamo dir di sì Come possiamo dir di no Vabbè Questo qua del pianeta Intanto specificiamo che è arancione No 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 Ti dico che c'è il giallo Ed è quello in fondo Dove dobbiamo entrare nei tunnel Quindi dobbiamo trovare il glitch Baratrick Per riuscire ad entrare Senza toccare il giallo E fidatevi che c'è Quindi non ropetate Io lo so Io lo so Dal tonico non lo vedo il giallo Mi dispiace Guardate che sono i più pro Lo sanno Infatti io e Refe Siamo dei proprio pro Sì È proprio detto bene Siete dei Brr 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 Che pezzo di schifo Che mi tira il cazzotto Ragazzi Io me ne vado a vincere Ciao Tranquillo Non è la vittoria È solamente la semifinale Quindi stai calmo E boom Aiuto Non ci qualifichiamo né uno Nell'altro Stiamo attenti Oh Mariano Allora Sappio Non devi toccare il giallo Aia Dov'è ragazzi Destra o sinistra È destra È destra È destra Refe tu vieni sinistra Refe è destra È destra Sì sì Sicuramente Non ci credo No 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 Non mi qualifico Sì Per un pelo Mi sto qualificato Ok ragazzi Non toccare il verde Diciamo che lo mettiamo Un attimo da parte E giochiamo normalmente Però fermi Perché sia Pro Che Nabi Sono completi in finale Quindi Che da adesso Vinca il migliore Best tryhard Non starli fermo Nell'anguino Che ti pigliano In realtà questa è la big tattica del mondo Non mi prenderanno mai qua Sì E io devo scappare adesso a Refe Perché ho appena fatto finta di tirare il pugno No Sono caduto Aiuto No Best Cioè Best è appena che la big tattica Non mi prenderanno mai del mondo Best dimmi che è uno scherzo Mi sono suicidato l'anima Ma sei un Nabbo Sto sentirei orribile Boom No aia Cadi 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 Broca d'acqua Nulla Io in questo momento Sono due contro uno E complimenti a Best direi Non è colpa mia Scusami se mi tirano i cazzotti I robottini Sono cattivi Aia Sì E vinciamo noi Refe Abbiamo già vinto Po Avete già vinto La prima finale Cioè o meglio l'ultima In realtà Però abbiamo un ultimo round Un ultimo round E chi vincerà quello Vincerà tutto Nulla ragazzi Sfiga vuole che riesca ancora questa mappa Ma Non c'è una sfiga Perché qua Vi dico solo una cosa Faccio schifo in questa mappa Non ho mai vinto una volta E quindi è una fortuna per noi Let's go Però io so Ma diciamo comunque No senti C'è Best busta prima Signori Vai Best Dove sarebbe Best busta prima Scusami Non lo so Io sono ultimo Però ma Non è possibile Ma dai Ma faccio pure schifo Guarda qua il megatrick Della vita di ref Che scavalca tutto Però non ti preoccupare Ci sono qua C'è mamma Che ti protegge Ci sono io Che andrò a vincere la partita Per te Sei ultimo vero No Su un secondo però Bravo Primo Vai Best Sei tagliato tutti Andiamo Vai Best Ma che cacchio dai Best Best per favore Dimmi che arrivi comunque prima Ma dai Ma non ci posso creere Ecco la skin Ecco la skin Il moonwalk di Michael Jackson Nulla signore e signori Direi che è il momento di andarci Non abbiamo più nulla in sospeso Non è che devo regolare la skin La skin ferro Allora la skin Mi sto facendo un giro epico Per provare a trovarla Ma Te la regalerò Ah sai dove potremmo mettermi Dove Vabbè io devo andare Ciao ragazzi Ci sentiamo nel prossimo video Lasciatevi anche iscriverti Ciao Ok ragazzi Dovrebbero essersene andati Comunque mi raccomando Schiacciate il tasto Lo su iscriviti E questo video correlato Sullo schermo Perché potrebbe interessarci Ciao ragazzi Ciao